Ciao a tutti, sono costretto a usare il microfono perché l'ambiente è grande e se non parliamo col microfono non si sente, quindi siamo in pochi, però usiamo il microfono lo stesso. Faccio fare i saluti al padrone di casa, perché la federazione quando si parla di calcio è sempre padrone di casa. L'avrei già venduto, io porto il saluto della delegazione a questa meravigliosa persona che ho conosciuto da 5 minuti e che è meravigliosa, vi divertirete, mi dispiace che non ci sia tanta gente perché Rovigo mancherà di quanto bene lui vi farà capire e comprendere, perché per me è sassito, è tecnica calcistica, ma per voi che siete detti ai lavori sarà un accrescimento culturale che è quello che il Polesi ne domanda. Ascoltate e vedrete che alla fine sarete contenti di aver avuto questa opportunità. Ti ringrazio anche per queste trovate che hai avuto delle due giornate, sei meraviglioso, perché non te lo dico così sulla qualità di ragazzo, perché a me piacevano, no, piacevano, no, perché a me piacevano ancora le donne, piacevano, ecco, sei un ragazzo meraviglioso e che farai una lunga strada con pochi inciampi. Allora, ben ritrovati perché penso che vedo qualcuno che c'era anche ieri sera e mi fa piacere. La serata di questa sera per me è una serata importantissima perché è un primo collegamento che il Polesine Calcio ha con una personalità del calcio a livello nazionale importantissima che è Massimo De Paoli, a quale farei un grandissimo applauso per la sua presenza e che ha portato anche con sé un collaboratore che è Matteo Camoni, al quale anche lui farei un grosso applauso. Brevemente per chi magari, se ci fosse bisogno di ricordarlo, Massimo De Paoli in questo momento è direttore tecnico e responsabile della scuola. Brescia. Ogni parola che ho detto penso che abbia il suo peso e penso di averle dette anche nel modo giusto. Dopo infatti chiederemo cosa vuol dire scuola Brescia e magari nei primi 5 minuti avrei piacere che raccontassi anche a tutti com'è nata questa idea. Matteo Camoni è intertrainer del Brescia Calcio e anche questa parola impareremo a conoscerla. Il tema della serata è un tema che nasce da una curiosità fuori area, fuori area ormai penso che se siete qua sapete di cosa stiamo parlando. Il tema della serata è una curiosità che fuori area a proposto a Massimo. Ci siamo conosciuti proprio perché abbiamo affrontato in modi diversi e stiamo affrontando in modi diversi. Naturalmente Massimo lo sta affrontando da più tempo e con particolari molto più approfonditi. Il tema è quello dell'analisi video, cioè come vedere e cosa vedere soprattutto dai video. Ormai ci sono telefonini, videocamere, tutti riprendono le partite, però cosa ne facciamo di questo materiale? Lui ha cercato di farne un uso adeguato per il settore giovanile e per gli allenatori. Quindi ha creato la parola giusta, penso sia un punto di vista differente. Quindi lo strumento video cercheremo di capire come si può utilizzare e soprattutto come gli allenatori devono saper vedere determinate cose. Allora io chiedo a Massimo di spiegarci brevemente cosa vuol dire Scuola Brescia. E dopo partiamo con la serata, ti farò qualche domanda, qualche curiosità, se il pubblico non vuole spezzare, non vuole romper il ghiaccio. Allora ringrazio Alberto per la bellissima presentazione. Ringrazio tutti voi che non siete assolutamente pochi, cioè di solito mi capita anche di fare molti chilometri per parlare veramente a pochissime persone. Credo che questa sia un'area, quella del Polesine, ma in generale il Veneto, un territorio, una terra che ha determinate caratteristiche. Io mi occupo di attività sportiva, ma anche di architettura, in Veneto sia in terraferma che in terra di mare ci sono delle eccellenze storicamente, ma anche al giorno d'oggi di assoluto valore. Ma la cosa che più mi attrae del Veneto è lo spirito di intraprendenza, quindi la capacità di rielaborare autonomamente delle cose. Cioè in queste terre, non so, l'assistenzialismo, la passività non tornano, non tornano tanto. E quindi sono terre che amo, anche perché mia madre è veneta, per cui sono lombardo-veneto. Vengo sempre volentieri qua, ho prima salutato dei cari amici che non vedevo da tantissimi anni. La seconda osservazione che volevo fare è una puntualizzazione. Non credo di svolgere la ricerca su questi temi in maniera particolarmente approfondita. Li affronto, ma oggi sono qua proprio perché fuori area sta sviluppando un progetto in maniera molto valida. Sia Alberto Nabiuzzi, Luca Ercolin, quando sono venuti a Brescia, noi abbiamo avuto degli incontri, mi hanno fatto vedere delle cose che confermano che il progresso del calcio italiano, soprattutto nel settore giovanile, sarà sempre più distante dal sistema calcio come ha funzionato fino adesso, ma sarà sempre più legato ai giovani, sarà sempre più legato a competenze anche nuove e diverse da quelle tradizionali e da progetti sperimentali. E quindi il fatto di essere qua è anche perché credo in questo e cerco attraverso il mio lavoro, in questo caso il fatto di girare molto per l'Italia, di valorizzare queste figure. Prima il Presidente diceva che ci sono delle realtà dove magari artigianali o delle produzioni dell'alto polesine, del basso polesine, adesso mi scuserà perché ho capito che lei è pro-domo, adesso non ho capito se è basso o alto polesine, ma lo starà attenti, quindi non faccio questioni di campanile, ma si ammaricava perché diceva che fanno un vetro giusto, particolare, che non conoscono al di fuori di questa realtà. E quindi questo diventa molto importante. Mi fa anche piacere avere ragazzi che hanno la forza di organizzarsi e di sfruttare i social, quindi YouCoach che sono dei giovani, ho il logo qui bellissimo, e quindi mi piace interagire anche con questi giovani, perché quello è un altro modo per interagire, è un modo che avrà sempre più campo, quello dei social. Adesso vengo al tema della serata e alla speranza di interagire con voi, quindi non vorrei parlare tantissimo, vorrei più che altro magari assistere a un dialogo, a un'interazione tra me e Alberto, ma anche e soprattutto poter rispondere alle vostre osservazioni, alle vostre curiosità, se sono in grado, o quantomeno cercare di arricchire me stesso, perché ogni volta che faccio questi incontri porto sempre a casa qualcosa e le cose che mi interessano sono i dubbi, sono le cose che magari non vi convincono. Mi è stato chiesto di mostrarvi che cosa significa Scuola Brescia. Scuola Brescia è un po' come porre al centro di una scuola la biblioteca, come porre al centro di un progetto la conoscenza. E questa è una cosa quasi impossibile in Italia, cioè quando tu parli di queste cose ti dicono, ma sei teorico, comunque il calcio è un'altra cosa. E quindi quando quattro anni fa ho deciso di smettere di allenare i giocatori e di iniziare ad allenare allenatori, ho avuto un colloquio col Presidente e il Presidente mi disse cosa vuoi fare? E io mi disse voglio fare una scuola, la scuola Brescia. E quindi questa cosa ha suscitato un po' di larità, perché a un certo punto dice, cos'è una scuola? Vuoi allenare, vuoi fare il responsabile, vuoi le figure solite? E io ho detto no, io voglio cercare di formare dei giovani o comunque degli allenatori che hanno voglia di rappresentare poi o di perseguire e di sviluppare il calcio in un determinato modo. E così è nata questa cosa che si avvale adesso di parecchie persone, alcune delle quali vi faremo vedere adesso nell'organigramma e alla seconda domanda, vabbè ma che collaboratori vuoi? E io dissi nessuno. E mi disse perché? Perché se il progetto andrà avanti i collaboratori dovranno provenire da la gente formata. mi sembrava il modo migliore per bypassare, qui c'è gente anche giovane ma anche meno giovane, chi ha un po' di esperienza sa che in ogni comunità sportiva ci sono, come dire, avete presente, no? Non so, precedenti. Quindi uno ha delle abitudini, gli amici e quindi per creare qualcosa di nuovo certe volte bisogna veramente fare tabula rasa. Allora ecco perché ho voluto stasera che venisse anche Matteo, perché Matteo rappresenta il profilo dell'allenatore o comunque del giovane che può proporre nella realtà Brescia Calcio ma in generale, potrebbe essere un ragazzo di questi, non sto facendo un discorso di società o di campanile, il calcio in maniera diversa, in maniera diversa proprio, diversa da come la mia generazione sta gestendo in questo momento questo magnifico sport. E quindi per fare questo devi da un lato avere un metodo e cercare di proporlo in una maniera coerente, un po' come se fosse, no? Perché poi la terza domanda che mi è stata fatta è quanto dura questa cosa che vuoi fare? Cinque anni, voi capite che coi tempi che ci sono adesso, la durata che mediamente ha un allenatore o con la frequenza con la quale le società falliscono o quant'altro, cinque anni sono un'eternità. E io sono partito in quella maniera, il prossimo anno facciamo il quarto anno, il progetto è in pieno sviluppo, al di là delle vicende della prima squadra, perché anche questo è importante, la squadra Brescia è autonoma rispetto alle vicende che possono essere buone, cattive e ha determinate regole sulle quali si struttura. Prima di lasciarti la parola ancora, vediamo un attimino alcune figure. La squadra Brescia ha un suo presidente che è Fabio Corioni, rappresentante della proprietà, ha poi come figura di riferimento il direttore sportivo, interagiamo, adesso lì non è segnato, ma interagiamo comunque con la prima squadra e con lo staff della prima squadra, quindi con tutti gli allenatori che ci sono susseguiti, purtroppo nel senso del Brescia quest'anno ha cambiato tanti allenatori, la speranza è di avere una sorta di Ferguson che possa dare più continuità, però questo non lo possiamo decidere noi, quindi da Giampaolo fino a Iaconi noi siamo sempre in contatto con lo staff della prima squadra, che significa che sottoponiamo allo staff della prima squadra gli obiettivi di tutte le aree che stiamo perseguendo e che sono obiettivi che hanno la caratteristica di poter essere modificati in itinere e quindi questi staff rappresentano una sorta di referee esterno con il quale noi vogliamo avere il giudizio e le critiche per poter poi modificare e migliorare. Il settore giovanile poi si struttura in un'attività di base responsabile di Roberto Clerici e Pietro Strada è il responsabile del settore giovanile, sono le figure che in tutte le società ci sono. Voi vedete che c'è una terza colonna, ecco la terza colonna è la scuola Brescia, quindi la scuola Brescia è una struttura autonoma, centrale, che sviluppa metodo e fissa gli obiettivi minimi da raggiungere, di carattere motorio, coordinativo, tecnico e tattico, di tattica individuale, non collettiva. La tattica collettiva viene sempre sviluppata dal trainer e dello staff della scuola. Come funziona? La scuola Brescia ha degli spazi, non abbiamo una planimetria, ha degli spazi propri e quindi pensate, stavo dicendo prima, a una scuola, è all'ora di ginnastica, avete presente? Quindi esistono le classi, le classi come se fossero le squadre, giovanissime, sordienti, eccetera, esistono gli staff, i professori che vanno nelle aule, poi esistono però degli spazi particolari, la palestra, con degli allenatori particolari, gli insegnanti di educazione fisica. Se ci pensate bene, l'insegnante di educazione fisica è l'unico che non va nelle aule, se non raramente, lui è lì. Sono gli studenti che alla campanella su un segnale o a un determinato orario prestabilito, calendarizzato, vanno e fanno l'ora di ginnastica. Da noi funziona così. Da noi tutte le squadre dai 2005 fino ai 97, esclusa la primavera che ha un protocollo di lavoro differente, più legato alla prima squadra. Noi abbiamo due spazi che denominiamo il nido per l'attività di base e l'officina, capite bene, le valli, il ferro, eccetera, l'officina della scuola Brescia, dove lavorano da un lato i piccolini, 2005 fino agli esordienti, e dall'altro invece i 99, 2000 fino ai 97 negativi nazionali. In questi luoghi lavorano trainer differenti da quelli delle squadre. Ci sono due trainer di riferimento e questi trainer di riferimento sono da un lato Ivan Zauli, che è un allenatore abbastanza importante, ha lavorato per più di 12-13 anni al Cesena Calcio, ha lavorato quasi sempre nella sua carriera su un metodo che conoscerete, molto famoso, che si chiama Cover Coaching, quindi ha sviluppato un'abilità e una professionalità legata alla gestualità tecnica. E Ivan, c'è un curriculum dove possiamo vedere, per farvi capire che cosa fa Ivan? Beh, Ivan cura il gesto, però non fa il Cover Coaching, non so se mi spiego. Ivan cura il gesto. Curare il gesto vuol dire questo. Punto, linea superficie, questo non è Cover Coaching, questo è il metodo Castello, è un'altra cosa. Questi sono post che trovate su Master Calcio che è un blog di Coverciano, è un portale e attraverso la gestualità, chiaramente la gestualità è il modo con il quale un giocatore tratta la palla. Tengo a precisare che questa modalità non è un modello fisso, noi vogliamo che ogni bambino sviluppi e trovi il suo modo di gestire la palla, ma diventa comunque un riferimento, diventa comunque qualcosa per guardare, ma perché non è Cover Coaching questo? Perché interagisce con parametri spaziali e temporali che fanno parte del metodo che invece il sottoscritto da 30 anni sta portando avanti e che si chiama metodo Castello e che ha alla base dell'apprendimento tecnico-tattico-coordinativo e motorio, non la tecnica, la tattica, la coordinazione e il gesto motorio, bensì la percezione, lo spazio, il tempo e come medium il linguaggio. Devo dire che solo negli ultimi anni la gente comincia ad essere sensibile a questi argomenti, i primi anni mi sono sentito molto isolato, mi davano come del pazzo, calcio è calcio, la palla si gioca, oggi molto meno e devo dire che il sostegno mi viene soprattutto dalle giovani generazioni che evidentemente anche per il corso di studi, per le competenze che hanno, perché le cose che dico chiaramente non è che le ho inventate io, in altre discipline ci sono esperti che da anni fanno queste cose, ma nel mondo del calcio, nel settore dei giovani italiani, ultimamente mi sembra di vedere parecchie società e parecchie persone che lavorano su queste tematiche e secondo me questo è un grande vantaggio perché il miglioramento avviene se tante persone si confrontano e cercano di dire dal loro punto di vista la loro opinione rispetto a un argomento, quindi non si tratta mai di vedere chi ha ragione e chi ha torto, ognuno sviluppa il confronto, il proprio pensiero e il confronto, lavorare in rete è fondamentale. Ecco che i ragazzi di YouCoach sono importanti perché la rete permette collegamenti che quelli della mia generazione non potevano permettersi, dovevi fare viaggi per vedere un allenamento e lo potevi fare una volta ogni tanto, non potevi andare tutti i giorni. Invece adesso con i mezzi informatici in tempo reale, come amano dire loro just in time, tu sei dove vuoi e puoi fare. Il problema poi della rete, questo lo dico, è che la rete è talmente vasta e ti dà talmente tante cose che ti può confondere. Quindi il problema della rete non è la ricerca di informazioni, ma è la selezione di informazioni, i cosiddetti link o comunque avere come una stella polare che ti permetta poi di filtrare le notizie e di ricercare la coerenza del progetto. Paradossalmente avere poche informazioni permette comunque di avere maggiore chiarezza, hai pochi elementi ai lavori, allenatori di vecchia generazione. Adesso i ragazzi se non controllano l'informazione rischiano in rete di naufragare, non so, non navighi più, la parola chiave è navigare, in realtà è un attimo naufragare se non gestisci bene questa cosa. Bene, io direi che ci fermiamo qui, abbiamo introdotto poi punto linea superficie di cui siamo debitori, è un bellissimo libro di Kandinsky che è un grande pittore, è appena terminata una bellissima mostra a Milano, Palazzo Reale e poi se volete vi faccio delle analogie con Kandinsky e la sua opera, ma anche con il metodo che noi stiamo sviluppando, entrando sempre di più nel merito dell'uso poi dei video e di tutti i mezzi che permettono di rappresentare il movimento o fissare un'immagine nella memoria e poterla poi riutilizzare. Avete visto prima che quel filmato era poi trattato. Ecco all'interno dei 5 anni di formazione i nostri allenatori, soprattutto nel secondo anno, acquisiscono delle competenze di carattere informatico, non un sapere esperto ma cominciano a utilizzare dei programmini di gestione delle immagini e quindi imparare a mettere la grafica, mettere un titolo, una colonna sonora, a tagliare una serie di frame, a montare, ma soprattutto anche le tecniche di ripresa, campo lungo, campo corto, evitare un controcampo, avere presente le focali, perché questo secondo me allena la pratica individuale dell'allenatore. E quindi il primo mese di corso sulle matricole lo spendiamo sempre per evitare, per cancellare l'alibi che fa dire dopo le prime battute, eh ma i miei bambini questo non lo sanno fare, è troppo difficile per la mia squadra. Mi piace questo gioco, quindi lo faccio andare avanti un po' di serate, poi a un certo punto dico, ma guardate che a me dei vostri bambini non me ne frega niente, no? Non mi guardo. A me interessate voi, siete voi che dovete sapere fare queste cose, non i vostri bambini. Quindi sposto il focus sull'allenatore. Ecco, molto spesso noi allenatori, mi ci metto ancora anch'io anche se ho cambiato mestiere, usiamo il giovane come alibi per non metterci in gioco, cioè dire i miei bambini non lo sanno fare è come dire io non mi voglio aggiornare. È come un docente della mia età che non si mette in gioco per imparare a usare bene il computer, per imparare a usare una tecnologia che magari uno di vent'anni utilizza normalmente. E allora cosa ti fa comodo dire? Che quella cosa non serve. E in quella maniera hai sancito la separazione netta fra te e le nuove generazioni. Quindi uno che fa l'allenatore non può conunciare all'aggiornamento. Non può. L'aggiornamento è indispensabile, ma non per vincere o perdere le partite, per comunicare. Perché sempre di più i bambini utilizzeranno la tecnologia. Quindi il problema non è dire se la tecnologia è giusta o no, il problema è il corretto uso della tecnologia. E allora ecco che soprattutto secondo me gli allenatori paradossalmente meno preparati nell'uso degli strumenti informatici hanno però la saggezza e l'equilibrio per poter consigliare. Ecco perché all'interno della scuola Brescia i nostri referenti, che rappresentano le società anche Brescia, formano working group verticali e orizzontali. E allora capita di avere il cinquantenne che accanto a un ventenne lavorano assieme. Il cinquantenne magari darà delle indicazioni di saggezza, di equilibrio e di esperienza, che il cappello grigio consente di fare e di dare, mentre il giovane metterà in atto tutto l'entusiasmo e la velocità, un po' come un palombaro o un surfista. La velocità in superficie nello stabilire relazioni tipiche di un giovane e la profondità di pensiero e la lentezza dell'artigiano o del contadino che mai come oggi sono necessarie per stabilire obiettivi su un piano di realtà e non sognare. E sognare significa faccio come il Barcellona, ho visto sulla rete questo filmato e in buona fede, ma ti poni un obiettivo che non è raggiungibile né da te, né dalla tua società, né dai tuoi giocatori. E quindi quando le persone mi chiedono di dare risposta a problemi tecnico-tattici loro, mi corre l'obbligo di dire che la risposta l'hanno già loro. Io posso aiutarli a trovarla, ma dentro di loro. Io non ce l'ho risposta, perché nessuno meglio di loro conosce le condizioni della società, i giocatori, eccetera. Sembra un luogo comune, ma i viaggi della speranza, li chiamo io, vedo gente normale, tranquilla, umile, fa una settimana a Monaco o a Barcellona, torna, hanno il calcio, cambiano. Cambia il saluto, avete presente quelle persone che erano normali, sono tornate, è come se fossero andate a Santiago e a Compostela, sono miracoli, come a Lourdes. Tornano e basta, non hanno più dubbi, hanno solo certezze, perché hanno un DVD, hanno visto quattro allenamenti a Barcellona e quindi possiedono la verità. Questo è un problema, con tutto il rispetto per uno dei club più forti del mondo, quindi nessuno mette in dubbio la qualità di Barcellona. Io dico che il problema è che dobbiamo fare, e in questo i Veneti sono maestri, con i nostri mezzi e se mi permettete anche con la nostra cultura. A me piace l'interazione, l'internazionalizzazione, poi però piace anche l'identità dei luoghi e delle persone. Ognuno deve esprimere la cultura e il pensiero del luogo al quale è nato. Ecco il genius locio a cui accennavo prima degli antichi. Prego Alberto. Cosa vuol dire video analisi? Io partirei forse da loro, da cosa vi viene in mente quando parliamo di analisi video per il settore giovanile. Quindi dopo da qui direi che possiamo interagire. Piacerebbe iniziare così, perché comunque la parola analisi video ormai è inflazionata in questo periodo, quindi rapportata ai giovani, boh, chissà cosa vuol dire. A qualcuno che vuole, che ha un pensiero. Per esempio a me analisi video per i bambini... Non pensavo che fosse, se era un esame dovevi dire che mi preparavo, c'è il senso che mi preparavo. Però a me mi viene da dire, io alleno i pulcini, analisi video, riprendo la partita e poi gli dico è rimesso male. E quindi far vedere un bambino, secondo me, può creare un po' di consapevolezza. Quindi io lo userei come strumento per renderlo consapevole. Questo potrebbe essere. Tu lo usi in questo senso? Ma io, adesso, non essendo il devoto Oli, la definizione etimologica precisa non la so, ma mi piace perché innanzitutto è una parola composta, che distinguerei. Un conto è l'analisi e un conto è il video. L'analisi, secondo me, ha a che vedere con un processo di discretizzazione del problema. Quindi, senza citare Leibniz, ma l'analisi, fino ad arrivare a quella infinitesimale, significa la scomposizione di un problema globale in singoli problemi. È l'operazione tipica dell'artigiano o di chi fa un lavoro ben fatto. Ci sono delle fasi. Così come in biomeccanica si può scomporre un gesto motorio, qualsiasi cosa può essere scomposta, in maniera convenzionale ed arbitraria. L'importante è quando si fa un'analisi, anche un'analisi video, è non pensare che quella piccola parte che tu stai analizzando sia il tutto. Quindi, l'analisi è necessaria. Fa parte del processo scientifico. Chi studia, qui abbiamo una dottoressa, chi studia l'anatomia, chiaramente credo che ci sia la conoscenza delle varie parti del corpo. Adesso mi scuserà la dottoressa, perché non sono competente, però grosso modo è così. Cos'è questo? Cos'è questo? E tu devi saper dare un nome a ogni singolo segmento corporeo o perché. Però il corpo umano è altra cosa. Allora, quello che mi piace dell'analisi è la capacità di nominare o denominare le singole parti. Significa avere una nomenclatura e significa sapere quello di cui si parla. Vi faccio un esempio. Immaginate di essere un paziente che va da un dottore. E ha un dolore qua. A un certo punto il dottore visita e gli dice, vabbè, qui dobbiamo operare. Venga domani che la opero al ginocchio. E questa cosa la dice mentre state uscendo. Voi il giorno dopo tornate a farvi operare da quel dottore lì. No. Io penso che no. Perché cazzo è il ginocchio? Perché ha dimostrato attraverso la definizione, la denominazione di un oggetto che non conosce quella cosa. Quindi l'analisi significa dimostrare che conosci le cose. Il colpo di testa devi sapere quali sono le fasi del colpo di testa. Rincorsa, stacco, inarcamento, impatto, ricaduta. Poi cominciamo a parlare. Non lo conosci? Di cosa stiamo parlando? Non è scuola a calcio. Fai il grest, fai qualcosa, animatore, fai qualcosa altro. Questa è la prima cosa. Ecco perché dura 5 anni il corso nostro. A differenza di altri corsi dove andiamo a partire dopo 5 settimane. Sono corsi in CEPU, siete d'accordo o no? Sono corsi in CEPU, lo dico io. Puoi avere anche il più grande docente del mondo. Il problema non è il docente, il problema è il discente. In 5 settimane non puoi fare una cosa fatta bene. Punto. Punto. È come se vi dicessero che tu diventi un falegname finito o un carpintiere o un muratore in 5 settimane. Ma chi ci crede? Ma chi ci crede? Prima cosa. Quindi la formazione è una cosa importante. l'analisi è importante. Video. Video significa che devo usare degli strumenti. Allora, se io uso questo strumento come Luca Ercolin, è un sapere esperto, vuol dire che ho una competenza piena di quello. Oppure sono, non so, un cameraman, oppure sono uno che di professione utilizza un strumento video, allora perfetto. Significa che se voglio fare l'analisi, l'analisi è quella cosa dove so che questa cosa qui si chiama in un certo modo e uso il video, ho due saperi. Uno, devo saper usare lo strumento per poter realizzare un video e ce ne sono molteplici che vanno dai tablet fino ad arrivare alle telecamere più o meno professionali. Ma adesso mi fermo alla camera più naturale, il nostro occhio. Quindi io faccio filmare e quindi faccio operare la videoanalisi, prima di tutto perché penso che sia un buon training per il saper vedere dei miei allenatori. E prima ancora della cosa che il video produce mi interessa l'operazione di ripresa perché la reputo formativa rispetto a cosa guardare, da che punto guardare, come zoomare, eccetera, eccetera. Quindi per me l'analisi video è tutto questo. Può costituire la premessa per una didattica percettiva e può diventare un buon modo per anche rivedere le cose. In una partita non esiste il pause, il tempo è irreversibile. Beh, in un filmato hai la possibilità di rivedere, di accelerare, di modificare. Questa cosa mi piace perché diventa un gioco, non deve essere eccessiva, ma sicuramente dal punto di vista del modo di pensare il lavoro o di monitorare un lavoro o di programmare la propria attività, credo che sia fondamentale in un settore giovantino. Quindi non mi sto riferendo né alla match analysis né all'utilizzo di statistiche che magari sono più legate a le prime squadre, ai tifosi e a un processo altrettanto valido, ma che è un'altra cosa. Le cose di cui sto parlando io e di cui si occupa mi sembra anche fuori area, è un utilizzo di questo strumento per programmare, strutturare, monitorare il lavoro sul singolo individuo, su un reparto, sulla squadra. Ci fai vedere un esempio? Un esempio di video, tu come usi, cosa riprendi? Prima abbiamo visto uno spezzone proprio breve. Noi abbiamo parecchi, abbiamo portato una sorta di qualche frammento come in una visione picassiana, quindi vi faremo vedere alcuni frammenti. Potremmo, cosa dici Matteo? Facciamo vedere? Oppure facciamo vedere Volpi? Facciamo vedere Volpi. Facciamo vedere un filmato che abbiamo fatto con un gruppo di allenatori di Volpi, che è un Sergio Volpi, un allenatore del Brescia. E su questo filmato questo filmato si occupa di, noi diciamo B3, quindi si occupa di, perché noi classifichiamo le attività. Le B3 per noi sono esercitazioni che si occupano di tattica collettiva o di reparto. Quindi il filmato in questo caso è un filmato, non è zenitale, ma chiaramente deve essere fatto da una certa posizione, che consente di vedere lo spostamento, l'occupazione dello spazio che in questo momento è, e qui poi vedete tutto il lavoro che sul filmato viene fatto, che è la parte più interessante. Quindi tu non fai delle misure a video? Quindi non è che ti interessa la distanza tra un giocatore e l'altro? L'abbiamo vista prima la distanza. Esatto, quando la distanza è sulla parte analitica. Noi abbiamo più video, abbiamo video A, video B1, video B2, video B3, video C, video T, abbiamo diverse attività, quindi se questa attività è un'attività che ha un carattere tattico, mi interessa in questo caso non un valore puntuare, ma mi interessa magari un valore più olistico di insieme, di occupazione dello spazio. Quindi magari mi interessa sapere magari la superficie o la posizione che un giocatore può occupare, cose che posso gestire tranquillamente con un global position system, un GPS, ci sono ditte che lo procurano e quant'altro. Dove invece vado a fare discorsi diversi come nel primo filmato che ho fatto vedere, allora lì magari parlo di frequenza, la frequenza per esempio del numero di tocchi che all'interno di un'unità di spazio il giocatore riesce a effettuare, allora lì come ho fatto vedere prima c'era un orologio, c'era un numero di tocchi e ci sono i parametri che vengono subito evidenziati in una determinata maniera. In questo caso però tengo a precisare che a noi interessa molto la velocità con la quale queste cose vengono fatte. Noi discutiamo di solito nella nostra scuola il lunedì sui filmati delle partite della domenica o gli allenamenti della settimana prima, quindi tutta questa operazione viene fatta dai ragazzi che partecipano alla scuola. Quindi se ho capito bene, prima, adesso io magari mi immagino, adesso che bello vado a riprendere la mia squadra, però in effetti prima devo capire dove mettermi a riprendere la mia squadra e soprattutto cosa voglio riprendere. Infatti ho detto che dura 5 anni e ho detto prima che queste cose vengono fatte il secondo anno, perché il primo anno devi imparare a capire quali sono le strategie, adesso non so se avete tempo, io vi spiego anche tutto il corso, però diciamo che se dura 5 anni perché ogni anno cerchiamo di dare quelle competenze, in questo sono abituato dalla scuola, quindi è chiaro che non mandiamo uno che non sa cosa filmare, uno che ha il compito di filmare vuol dire che ha i prerequisiti per poter filmare, poi se volete vi do tutte le informazioni sul nostro programma e sul corso. Quello che è importante, volevo farvi capire, che per me è importante usare questa cosa per migliorare la percezione degli allenatori, cioè chi filma non è che da grande fa il cameraman, chi filma in quel momento sta facendo, è come uno stagista, sta facendo un training attraverso una percezione immediata e si abitua a usare una cosa che poi magari potrà utilizzare con i propri giocatori, perché quel filmatino lo smonta, lo elabora, lo inserisce in un social, lo spedisce al suo giocatore e a differenza di come faceva la mia generazione che dava una pacca sulla spalla e doveva aspettare il martedì, loro in tempo reale possono comunicare. Ma cos'è che i miei occhi non vedono? Nel senso io vedo i miei bambini giocare, riprendo tutto con i miei occhi, so già tutto io, il video mi serve per ricordo, per fare la cena di fine stagione, non è che mi serve… Alberto, facciamo un applauso ad Alberto, fate un applauso sulla fiducia, perché Alberto mi fa una domanda a cui sa già la risposta, è bellissimo questo gioco, va bene, ma senti se io ti dicessi adesso che è vero, hai ragione, sai già tutto tu, come la prenderesti? No, grazie, sto scherzando. Allora, vabbè, è fin troppo ovvio, è chiaro che poi ognuno di noi pensa di avere l'occhio giusto, noi siamo sempre spesso, soprattutto l'allenatore di calcio italiano è di solito autocentrato e egocentrico, cioè esiste lui e ha un allenatore, dà già fastidio che ci sia qualcuno in campo vicino. Sai come quelli a scuola che tu guardi e loro hanno paura che vedi quello che stanno scrivendo. È un po' la mentalità, non è diffusa, ma nei professionisti è diffusissima, nei direttanti meno, nei giovani quasi per niente, perché invece i giovani sono abituati a interagire. Allora tu dicevi che cosa non vedi? Beh, vediamo un attimino l'esercizio di Fabio, c'è quello di Fabio Calvini? Allora, facciamo un esempio, se tu è un filmato di questo genere, dove stiamo facendo degli esercizi. Non dirmi, ti rispondo io, fammi delle domande su quello che vedo e quello che non vedo, perché io mi reputo un ottimo allenatore, quindi io ho già visto tutto. Vediamo un po', vediamo un po'. Stop, cosa vedi? Stavo guardando il pubblico, mi sono distratto fatto, è un grande. Allora, partiamo, vai. Stop, che cosa vedi? Allora, è un gioco di situazione. di uno contro uno, vedo che ci sono due giocatori che si affrontano e che partono dopo un segnale, che non ho capito se è acustico o visivo. Vedo che c'è qualcuno che arriva prima, c'è qualcuno che arriva dopo. Vedo che l'obiettivo è il gol, però non riesco a capire dove devono segnare, se in entrambe le porte, se solo in una. Non ho visto, per esempio, con che piede hanno fatto gol, con che parte del piede hanno toccato la palla, però… C'è qualcun altro che vede qualcos'altro? Tra i tanti il deficit è anche quello uditivo, se puoi… Ci sono due porte diverse, di diversa… Bravo, due porte diverse. Qualcun altro che… Io questo, per esempio, non l'avrei detto. Bravo, due porte diverse. Non è che c'è la risposta giusta, eh? Era per vedere. Allora… Esatto, esatto. Quindi, in questo tipo di esercizio, che è un'altra attività ulteriore, l'obiettivo in questo momento, la qualità, non è tanto l'esercizio, ma se io fossi un allenatore, chiederei a che progressione fa riferimento, cioè questa cosa, cosa ha prima e cosa ha dopo. Questo valore relazionale manca. Ma manca anche nelle società professionalistiche importanti. Vedo che formano i propri allenatori delle società fidelizzate inviando PDF e dicendo quello che devi fare, trattando come degli stupidi i propri collaboratori. Quindi quello che a me interessa è che gli allenatori, in questo caso Fabio Scalvini, che è un ragazzo come Matteo Camoni, che sta frequentando il quarto anno, il prossimo, della scuola, è un ottimo allenatore. È un allenatore dei giovanissimi del gay di calcio, che è una società fidelizzata, ma è anche nello staff del Brescia. Non l'abbiamo rubato al Ghedi, abbiamo chiesto al Ghedi se potevamo usufruirci di questo ragazzo che nei tre anni ha dimostrato buona capacità. E quindi questa è un po' la logica. Che cosa vedo? Io vedo la cosa più importante che è quel timer che c'è sopra. C'è un tempo. Come nelle pubblicità. C'è una pubblicità bellissima, non so se l'avete vista, dove chiedono a tutti, giovani, ragazzi, ragazze, e chiedono che cosa desideri. E uno dice il successo, l'altro dice i soldi, l'altro dice l'amore. E quella pubblicità finisce con un vecchio che dice I wish time. Desidero il tempo. Per esempio qua era un momento nel quale in questo training, questo mister, con quei ragazzi, stava valutando un tempo che è importante. Il tempo per conquistare una palla, che è data in maniera diversa. Un tempo per coprire, se non la prendi, o attaccare una porta diversa. E tutto questo con un'interazione veloce. Che cosa non vedo? Beh, credo che Fabio, mentre faceva questa cosa, non poteva sapere qual era la copia più veloce. Esatto, infatti, poi stavo pensando anche, magari uno... Attraverso una cosa che nessuno ha visto, perché la cosa più importante di questa cosa è, vedete, 001619. È il tempo. Questo filmato, la cosa che non vedi è il tempo, perché le porte, i palloni, lo vedono tutti. Cioè non c'è bisogno di aver filmato. Ma il tempo è il tempo. Soprattutto magari mi immagino un ragazzo che è più reattivo al segnale, ma magari è più lento poi ad arrivarci. Certo, dopo ci sono i tempi diversi. Ho scritto un libro nel 2003 che ha vinto il premio coni, molto importante, secondo me, è il calcio, lo spazio, il tempo e le situazioni di gioco, dove introducevo diverse categorie di tempo. Il tempo dello smarcamento, il tempo del passaggio. I tempi sono molteplici, proprio. Ho citato Picasso prima, perché lui, molto prima di tutti noi, ha inserito questi concetti, queste categorie nella storia dell'arte. Ma prima di fare quello devi avere lo strumento. Quindi se non hai un orologio o non hai uno strumento per poter misurare queste cose diventa molto difficile. Io credo che questa operazione, però, più che noi, la stia facendo fuori l'area. Cioè noi non siamo specializzati su questo. Noi abbiamo dei tempi e delle modalità che richiedono comunque sempre e danno sempre la priorità alla parte pratica. Noi non siamo specializzati su queste cose. Però credo che, come diceva Alberto, poi sia importante, su questo filmato, andare a vedere poi i diversi tipi di tempo, no? In funzione delle diverse situazioni. Non so, un dato importante potrebbe essere, una volta che la ragazza arriva prima sulla palla, quanto tempo ci mette a tirare in porta? Facciamo l'esempio. Potrebbe essere un dato. Però sono abituato a dare un aspetto convenzionale a dato. Quello che mi interessa in questo momento è come l'allenatore che sto formando utilizza gli strumenti e li correla con i principi. Qui a Scuola Brescia si caratterizza perché ha una stretta relazione tra gli strumenti anche della videoanalisi, perché non voglio andare fuori il tema, ma sempre correlati a un progetto metacognitivo. Per me non è importante il fatto che tu faccia una cosa. È importante ma non è la cosa principale. È importante che tu stabilisca dei nessi tra la sfera strategica, girare, scavalcare, attraversare, i principi che sono 20, 10 di tattica individuale, 10 di tattica collettiva e le modalità tecniche, i gesti tecnici con i quali tu puoi applicare e rendere concreta quella cosa. Quindi non il calciare per il calciare. Ecco la differenza tra il nostro metodo e il cover coaching. Il cover coaching è l'automatizzare un gesto. Noi con punto, linea, superficie vogliamo contestualizzare quel gesto all'interno di un percorso che diventa un percorso con una serie di domande, come se fossero dei question mark che ogni tanto ti pongono dei quesiti e sei obbligato a inserire un aspetto che mi permetto di dire che ho introdotto sulla rivista Nuovo Calcio tanti anni fa. Adesso vedo che molti parlano di questo, ma in realtà ci sono le date e le cose pubblicate. Tanti anni fa ho cominciato a trovare il carico cognitivo. Mi fa piacere adesso che sia molto, forse più in progetti commerciali che in progetti realmente formativi, ma mi fa piacere che tutti pongano il problema del carico cognitivo, perché mi sembra che invece per tanti anni l'unico problema, soprattutto nelle scuole di scienze motorie, sia stato quello del carico metabolico. Tutta l'attenzione è stata sempre e unicamente rivolta alle capacità condizionali di forza dell'esistenza della città. Perché io queste cose dicevo 30 anni fa, non oggi. E con un po' di amarezza devo dire che siamo in grande ritardo rispetto ad altri paesi e altre culture, che hanno molte più ricerche. L'Italia invece è un bacino straordinario. Ecco, io credo che la videoanalisi serva anche a questo, ad affrontare il grande tema del cognitivo e attraverso competenze nuove che dovranno sorgere, fuori area, rappresenta queste competenze e attraverso un approccio serio, anche strumentale, non approssimato. Non basta andare lì con la telecamera e fare la registrazione amatoriale. Beh, allora si potrà fare un discorso di tipo parametrico, di tipo preciso. Il perché di questa angolazione? Tu prima dicevi che insegni proprio ai tuoi allenatori da dove riprendere, cosa guardare, dove mettersi. Perché hai ripreso questa situazione da questo punto di vista? Allora, sul piano di registrazione magari faccio dire due cose a Matteo, poi magari completo. siccome fa parte delle competenze dove mettere la telecamera. Di solito noi quando riprendiamo abbiamo dalle 3 alle 4 telecamere, quindi questa era una telecamera. In realtà in tutti e due gli ambienti di lavoro noi abbiamo 4 telecamere contemporanea che riprendono e che hanno a che vedere con 4 allenatori diversi. Un po' come se dicessi tu guarda l'aspetto tecnico, tu guarda l'aspetto motorio, tu l'aspetto tattico e quindi a seconda del problema esiste il punto di vista. Lo dicevo prima, se voglio vedere un po' come funziona, come si muove la mia squadra andrò sulla gradinata. Se voglio vedere come calcia il pallone starò vicino perché mi sembra... è come un arbitro, cioè un arbitro che non è vicino all'azione difficilmente può prendere una decisione giusta. Però questo mi sembra abbastanza ovvio. Vorrei invece che lui dicesse che non organizza, visto che è lui che coordina la troupe video, diciamo. Però visto che adesso Matteo parla per la prima volta, mi piacerebbe anche, Matteo lo sa, che presentasse questa brutta parola che è intertrainer e anche che dicesse un po' il suo percorso perché insomma... L'ho fatto proprio per questo. Buonasera a tutti innanzitutto. Tanti si chiedono il perché di questo nome e diciamo la verità è anche volutamente abbastanza criptico. È stata una scelta che ha fatto Massimo, che è nata un po' assieme, insomma la figura ovviamente l'ha ideata lui, poi ha ideato anche il nome e c'era la consapevolezza che non si capisse di cosa si stava parlando. Nello specifico intertrainer vuol dire l'allenatore che sta tra gli allenatori. Io ho la fortuna, perché secondo me è una fortuna, mentre magari qualcuno preferisce avere la propria squadra, avere i suoi giocatori eccetera, io al momento, perché comunque mi sento comunque anche uomo di campo, non ho una squadra mia ma ho tutte le squadre, perché ho la fortuna di interagire con tutti i bimbi e i ragazzi del settore giornale del Brescia, quindi dai 2005-2006 fino ai 97 nelle attività che riguardano la scuola Brescia e questa è una di quelle. Faccio velocissimamente un accenno su come sono arrivato qui perché poi volevo fare, tornare un attimo a bomba sul perché di questo tipo di inquadratura e di questa modalità. Mi fa piacere confrontarmi e parlare con allenatori del territorio perché sostanzialmente io sono e tuttora mi sento un allenatore del territorio. Ho iniziato da una società di lettantistica ormai quattro anni fa il corso della scuola Brescia e poi pian piano, insomma, io mi sono appassionato il progetto, ho creduto fortemente in quello che porta avanti, non solo dal punto di vista calcistico ma io spesso quando intervengo, quando parlo anche con i nostri ragazzi, sottolineo l'aspetto relazionale che secondo me è una delle più grandi fortune perché poi non tutti magari arrivano, io stesso non mi considero né arrivato né particolarmente privilegiato o fortunato, mi sento fortunato a conoscere tanti allenatori del territorio e fare tante esperienze come sto facendo, come questa sera, cioè incontrare nuove realtà, nuove persone, nuove idee e questo penso sia la più grande ricchezza di questo progetto, oltre alle qualità in dubbio che ha dal punto di vista strettamente calcistico e dal punto di vista umano e relazionale perché il confronto e la possibilità di vedere e rivedere le proprie idee è la più grande fortuna che si possa avere, altrimenti si rimane chiusi in se stessi o comunque nel proprio piccolo orticello e non si capisce invece quanta gente ci sia appassionata, competente a tutte le latitudini e in tutte le realtà che noi stiamo e abbiamo la fortuna di visitare, sia vicino a noi, quindi nella zona di Brescia, sia fuori dall'Italia perché adesso un po' cominciamo a girare. Stavo, volevo intervenire prima, ho chiesto comunque anche, avrei chiesto io la parola a Massimo perché volevo dar la mia su cosa io stavo notando in questo filmato ed era il tempo dell'allenatore, vi spiego cosa intendo. All'interno delle sessioni di lavoro della scuola Brescia noi lavoriamo su sessioni di 30 minuti con i vari gruppi che vengono da noi e all'interno di questi 30 minuti ci sono 4 sottosessioni da 7 minuti, cioè c'è un'intermittenza tra i vanzai, in questo caso facciamo l'esempio del nido, c'è da una parte i vanzai, da una parte gli assistenti più sottoscritti che lavorano sulla parte del metodo e ogni 7 minuti ci scambiamo i due sottogruppi di ragazzini, quindi arrivano in 15, c'è una prima parte iniziale tutti assieme di 7 minuti, poi 8 da una parte e 7 dall'altra, poi si invertono e poi finiscono tutti assieme. Perché ho spiegato questo? Perché il tempo... Bergo Docet, cioè, avete capito? In maniera tale che ci devono essere allenatori che sanno lì dentro, ci sono allenatori che lavorano in un piccolo spazio con poco tempo e fanno tantissime cose e non dicono che non c'è spazio, che non c'è tempo, capite? Ecco perché devi essere formato. Perché un allenatore normale direbbe, c'è troppo poco spazio, ci sono troppi bambini, bambini li lasci così poco. No, sono rapidi e invisibili e quindi questa intensità mi piace. Ecco perché il tempo poi è tanta roba. Però scusa, continua perché stavi dicendo... Quasi ultimato. È proprio il tempo dell'allenatore, perché mi sono accorto e ci siamo accorti, con i ragazzi ne parlo spesso, che su 7 minuti, se uno impiega 2 minuti, 2 minuti e mezzo a spiegare un esercizio, è già quasi tempo di cambiare. E quindi ci stiamo abituando, ci stiamo allenando a essere più efficaci anche da quel punto di vista, avere una comunicazione più rapida, avere una comunicazione più mirata e a stare nei tempi. Quindi c'è un tempo che non si vede qui, ma che è il tempo dell'allenatore che conosco io, diciamo questo è un filmato dimostrativo, ma che conosco io perché lo sto vivendo. E spesso facciamo fatica, sforiamo, stiamo troppo lunghi. Per fare questo, non è come dirlo. Per fare questo e per farlo costantemente, tutti i giorni dell'anno, su tutte le categorie di un settore giovanile importante come quello da Brescia, non è così semplice. Perché non basta formare chi andrà in quel punto, bisogna anche interagire con chi deve darti i giocatori, cioè gli staff. E noi abbiamo il vanto di dire che i ragazzi sono sempre puntuali. Se sono sempre puntuali vuol dire che questo tempo ci siete, che è dentro e che regola l'attività, è rispettato anche dagli staff. Quindi in quest'anno noi abbiamo abituato, tutti sanno che c'è questa cosa, al punto che noi potremo anche non chiamare più nessuno e i bambini arrivano, non so se mi spiego, perché comunque c'è un regime di sicurezza, per cui abbiamo la fortuna, non devono attraversare la strada o quant'altro. Quindi anche i bambini più piccoli, i puffoli o i brodoli, sono lì, arrivano di corso, è con la palla, c'è chiaramente un'accoglienza, un 5, il linguaggio, la metafora, la storia, la parola, eccetera, eccetera, e poi l'attivazione è subito. Quindi i bambini quando entrano lì sanno che si lavora, non si parla, c'è qualcosa da fare, c'è qualcosa da fare. C'è quindi tutto l'aspetto della ripetizione, del muro antico, non so come dire, è la forca che è stata rottamata un po' troppo presto, secondo me. È chiaro che i cultori del globale, come, analitico, ripetitivo, nozionistico, calma, calma, perché poi a lavorare per progetti, sempre col globale, nel linguaggio hai la gente che mette l'asse senza H, ecco l'analisi. Se fai troppe cose sintetiche, globale è sintesi, non va bene. La virtù sta nel mezzo, quindi ci vuole un po' di analisi, analitico, un po' di sintesi, situazionale, e magari anche un po' di gioco, si ride. È chiaro che questo momento, quel tempo breve, è dedicato a una cosa che magari è più globale, più situazionale. Non è sempre così, ci sono altre volte, ci sono altri filmatini dove possiamo far vedere qualche puffo che fa. Massimo, ti faccio salutare dal Presidente che deve andare. Presidente, se mi permetti mi saluto, perché l'alto poi... No, no, non mi fermo in saluti con lì, che è una roba da niente. E do un riprovero qui a... sì, perché è di sera meravigliosamente bene. Questa sera è certo. Allora io dico che questo pubblico qui e voi meritavate l'Accademia dei Concordi, perché sì, la sala Ratti e l'Accademia dei Concordi, ma lo dico per piageria. Lo dico perché avete portato alla conoscenza di queste persone che sono arrivate qui un calcio che non è quello di dare un calcio al pallone o di farlo... ma il pallone si può anche acarrettare, il pallone si può fermarsi e tenerselo sui piedi, ma soprattutto il perché si fa un'organizzazione che poi porta a chi fa calcio veramente come deve essere fatto. Io l'architetto la saluto e saluto anche il suo collega lì. Ma questa non è piageria, è la verità. E voi vi sareste meritati l'Accademia dei Concordi. Grazie. Grazie. Allora, stavo chiedendo a Matteo se c'era un filmattino per vedere dei bambini che facciamo delle cose, se non so se riusciamo a trovarlo, se non analizziamo quelli di Ivan, non c'è problema. comunque stavo dicendo che quindi l'acquisizione della tecnologia e il tentativo di saper vedere senza al di fuori di qualsiasi presunzione, perché poi ognuno sa vedere, passa attraverso diverse modalità. Una modalità è questa, cioè vuol dire che i ragazzi provano all'interno dei cinque anni a filmare. Un po' a filmare i ragazzi del Brescia, ecco, stop, vediamo quelli più piccoli, non ci sono. Un po' a filmare quelli del Brescia, un po' a filmare quelli della propria squadra. Poi attenzione, cosa facciamo con questi filmati? È importante questo, perché se no non si capisce la costruzione. Questi filmati entrano e sono materia viva sulla quale poi noi la sera, il lunedì e il martedì sera nella scuola Brescia parliamo. Cioè le lezioni che facciamo sono fatte sui filmati prevalentemente, perché la sera la gente è stanca, perché fai la teoria. E su questi filmati il bello cos'è? Guardiamo i puffi, guardiamo i puffi, guardiamo i puffi, vedete? Allora, questo si può fare, no? Voi siete maestri della slow motion, quindi è chiaro che su queste cose noi però facciamo dei ragionamenti. Noi facciamo dei ragionamenti. Quindi facciamo dei ragionamenti significa che poi facciamo dei confronti. Non so se vediamo un attimo. Questo è un bambino del 2005, piccolini. Vediamo che insomma ci siamo, no? E' a pianino. Non è che diciamo che vinceranno, diventano campioni. Noi vogliamo che il secondo anno quei bambini sappiano fare determinate cose che sono già codificate, c'è già un tempo, ci sono delle persone che le sanno fare, di destra e di sinistra, punto. Cioè un giocatore scuola Brescia deve avere quei requisiti lì, perché se no non va a fare i pulcini, non va a fare gli esordienti. Ci siete? Abbiamo degli obiettivi. Una roba semplice, però che non fa nessuno. E li verifichiamo. Non è che uno mi dice per me lo fa. Devo... Ecco, blocca un attimo. Stop, stop, stop. Eh, è questo. Il focus è questo. Quindi tu devi prima di tutto conoscere la finta. Un po' come un dottore deve conoscere le parti del corpo. I nostri allenatori devono sapere con la finta lì come si chiama. E siccome il linguaggio è la base del nostro metodo, punto. Abbiamo le nostre parole. Non c'è nessuna. C'è chi dice che le parole non contano, per noi contano. Tenete conto che per un problema di linguaggio l'uomo è andato in crisi. La storia dell'attore di Bavere magari una costruzione molto importante si è interrotta per problemi di lingua. E se noi facessimo adesso un grande convegno internazionale e chiamassimo qui un chimico, un fisico, un matematico sulla parola base, se non si mettono d'accordo è un casino. Il linguaggio è importante, non è secondario. Ma non solo perché chi sa solo di calcio non sa di calcio, ma perché è il modo in cui è lo strumento base. C'è anche un linguaggio non verbale, però se non chiarisci bene le parole è un problema. Perché ogni allenatore ha il suo gergo. Il problema non è l'allenatore, il problema è il bambino che passa attraverso gli infiniti gerghi degli adulti. E' come se a scuola ogni tre mesi, ogni anno cambiasse il docente e cambiasse completamente la modalità con la quale propone la materia. Ma che cacchio. E' chiaro che tu vai ad aggiungere una difficoltà o una difficoltà. E' chiaro che per te non fa differenza che sei formato, ma per lui che deve già capire che cacchio vuol dire ax al quadrato più bx più c uguale a 0, cazzo se tu il giorno dopo gli dici alfa x al quadrato più beta x, cioè tu metti più beta y più gamma uguale a 0, è chiaro che a me tu dici la stessa cosa, sempre un trinomio, ma lui fa fatica perché hai sostituito ad a alfa. Non va bene. Allora il messaggio che dico sempre, al posto di fare mille esercizi diversi, che adesso va di moda, l'allenatore più bravo è quello che fa gli esercizi più difficili. Fanne uno in mille modi diversi. Guardate che non è la stessa cosa. Non va alla proprietà commutativa su quello che ho detto. Tu fai lo stesso esercizio come fanno i grandi scrittori che sullo stesso inizio, sullo stesso incipit sviluppano, come fa Faulkner, percorsi diversi. E una volta il racconto parte attraverso la visione della cameriera, la volta dopo dell'assassino, la volta dopo del poliziotto e dentro quel libro ci sono i diversi punti di vista. Questo devi saper fare. Uno che sa vedere. Sa vedere quello, ma lo vedi se conosci. Esiste un rapporto strettissimo tra ciò che vedi e ciò che sai. punto. Altrimenti non potremo capire Kandinsky. Capiremo solo gli impressionisti, cioè quelli che rappresentano la realtà. Invece, se io conosco una cosa, la posso vedere. Se io so che una rullata avviene con cinque tocchi, con tre tocchi, con due tocchi, beh, io allenatore, non il ragazzo. Io allenatore quando guardo saprò apprezzare un ragazzo che con un tocco solo fa tutto quello. Se mediamente so che sono, la devo conoscere però, devo sapere quali parti anatomiche. Non solo devo saperlo fare, che è importante, il modelling, ma è anche importante. E se non lo so fare, devo prendere qualcuno che lo sa fare, perché non basta dirlo. Il calcio è una pratica. Ho chiesto un pallone prima proprio per far vedere delle cose. Al punto che, oltre ai cameramen, ci sono anche gli assistenti. Scalabini è un assistente, non è un trainer. Zauli è un trainer. Cristi è un trainer. Gente che ha più di dieci anni di professionismo alle spalle. Il maestro. Il giovane, al primo o secondo anno di scuola, Matteo, sono assistenti. Sono giovani che si stanno formando. E l'ordine non è gerarchico perché è rispetto all'esperienza. L'esperienza è importante. Allora, il giovane che magari metodologicamente è più preparato, sta vicino a Zauli perché impara lui, perché lo fa anche lui insieme ai bambini, il gesto. E sono tanti i gesti. E devi farlo tante volte, con destra e con sinistra. Ecco, questa cosa qui è un po' la Bauhaus, cioè fai le cose oltre che a dirla. Allora mi piace dire, non dirmi quello che pensi, fai quello che dici. Non mi interessa che parli. Prendi la palla e mi fai vedere. E poi prendi dieci bambini, venti bambini, ti do cinque minuti, ti do uno spazio ristretto e lavori con grande intensità. E poi cambi il layout, e poi costruisci la progressione, e poi mi spieghi le cose. Tutto questo al quinto anno deve avvenire, non al primo, con calma. E quei filmati che facciamo la domenica, il lunedì sera e il martedì sera, in tempo reale, vengono discussi fra gli allenatori, e poi arriva anche Possanzili, e poi arriva anche Iavorcis, e poi arriva anche Volpi. E quindi un giovane non solo vede e partecipa, non solo studia e interagisce con gli interpares, ma ha anche la possibilità, magari, di avere un'interpretazione sul movimento di un attaccante di Possanzili, che l'anno prima, se vi permettete, giocava ancora. Giocatore di livello. O Volpi, se non lo conoscete, ma sono giocatori che hanno giocato in Serie A. Questa è la scollaboration. E abbiamo firmato di Possanzili, farlo andare. Tutto questo è anche il video. Il video diventa sezione e-learning. Il video diventa anche promotion, perché no? Il video diventa anche i filmati che abbiamo fatto e abbiamo mandato alle famiglie. Non so se lei qua, poi li faremo vedere. Ecco perché vi dico che c'è tanta roba. Noi usiamo il video per tante cose. E quindi, ecco perché dico, non abbiamo un video noi. Abbiamo tante tipologie di video. Perché? Perché il metodo che stiamo portando avanti ci dà la possibilità di avere diversi punti di vista. Ma quello che fa utilizzare bene lo strumento è il metodo. Noi abbiamo chiaro il metodo. Perché è chiaro che fino a quando tu copi gli altri e scambi un esercizio, non so, penso ai giochi di posizione o quant'altro, per il metodo è un problema. Però non è un metodo, è un esercizio. Un metodo è una cosa diversa. Ci vuole più chiarezza. Allora se hai un criterio con il quale lavorare, devi avere dei principi. I principi ci sono, dice Coverciano. Perché vi ho detto, i 20 principi non li inventiamo noi. i 7 gesti tecnici sono quelli di Coverciano. C'è stato qui ieri, mister Ulivieri si è richiedevate, gli diceva che sono 7 i gesti tecnici, perché sono 18. E quindi vedete che qua, nel momento stesso in cui operiamo delle cose, questo qui, ci sono i giocatori di mister Possanzini, che è quello lì. Non so se è già passata l'intervista, che dopo deve arrivare. Adesso vedete che c'è questa cosa, qui si lavora sul concetto di ampiezza, sul diretto avversario. Noi abbiamo codificato tre tipi diversi di ampiezza, c'è un numero sull'utilizzario tecnico, se volete, dove ho scritto tutte queste cose. Sì, si fa sentire. E poi c'è l'intervista, e anche questa è... la spazio determina chi è senza palla. E quindi io mi ricordo che l'attaccato, appunto, con la palla scaricata, i seclisti, per tanto tempo il suo compagno, mi tagli la palla, quindi scriviamo uno spazio con la palla. C'è lavoro perché, come dicevo, attaccato il mercato lì, è totalmente fastidio alla difesa. La difesa è perché va fuori dalla... il concetto effettivo, qua, del centrale, e il persino ha una scelta da fare, tutto sta stretto, quello che è la palla, quindi di poi sparcarsi, non troppo ondano da bene. Se non troppo ondano, si fanno anche due delle attenzioni, invece poi le persone per essere facciano scelta. Ora, quello che noi stiamo cercando di fare, attraverso i video, è non perdere tutto il patrimonio che è all'interno di qualsiasi club, quindi anche il pesce, ma qualsiasi club ha questo, anche club non professionistici esiste legato a chi ha giocato in passato. Mi è capitato oggi, la fortuna, Alberto mi ha dato la grande soddisfazione e fortuna di vedere straordinari appunti di buso, straordinari, straordinari. Ecco, è un peccato però che questi appunti siano come visibili, ex post, quando magari la persona è mancata, è un po' come se io potessi far sentire ai miei allenatori giovani i consigli preziosissimi di Bonsanzini solo quando magari non c'è più. È molto importante in una società, soprattutto di giovani che hanno voglia di formarsi, non rottamare gli anziani, perché gli anziani hanno comunque una cosa, hanno commesso già tanti errori e questo è il grande patrimonio dell'anziano, quindi quanto meno se non ti saprà dire come usare il computer, perché tu lo rottami per quello, tu giovane lo rottami per quello. Lui ti può dire guarda che quella strada lì non va bene e in un periodo dove le strade sono infinite in rete, avere qualcuno che ti dice dove ci sono i funghi, non so se mi spiego, non è male, perché se no rischi di andare nel bosco e continui a girare, all'inizio sei felice, poi però porti a casa niente, hai capito? Non porti a casa niente, perché continui e io vedo che c'è tanta gente che perde tanto tempo. Lo dico non nel calcio, all'università, lo vedo studenti che continuano, fanno mille cose, tu dici ma l'obiettivo qual è? Non portarmi, la parola chiave è download o plagio, quindi ti portano le cose che le hanno fatte loro invece le hanno scaricate, le fate qualcun altro e poi ti portano 500.000 cose e tu gli dici dimmi quattro cose ma che siano quelle che incontrano, che è un problema di selezione, quindi la videoanalisi fatta bene è quella che riesce come un settaccio a filtrare e a sedimentare, a far emergere le cose importanti di un gesto tecnico, di un gesto motorio e quant'altro. Sul principio dell'efficacia, dell'efficacia e quindi questa cosa qui la devi filtrare con gente che ha fatto quella cosa, per cui per me il riferimento più importante in una società di promozione non è il Barcellona o il Brescia o un professionista, è chi ha giocato in prima squadra in quella squadra lì, perché chi ha giocato tanti anni in quella squadra lì ti sa dire quali sono i problemi di quella realtà lì, di quella categoria lì. L'obiettivo principale di una scuola a calcio che ha una prima squadra è quello di portare il maggior numero di persone in prima squadra. Se poi qualcuno gioca nel Real Madrid, tanto hai guadagnato, ma l'obiettivo minimo per me è il numero di giocatori che giocano nella tua prima squadra e gli altri devono essere i tifosi di quella squadra, non so se mi spiego. Quindi il primo obiettivo deve essere identità, è quello dove manchiamo. I tedeschi sono bravissimi in questo, gli irlandesi sono bravissimi, gli inglesi sono micidiali. Quando ho fatto i mondiali di categoria a Manchester, la cosa che mi ha impressionato è che non è possibile che un giocatore dello United tenga il City, non è possibile, è un postulato e viceversa. Quando ho allenato l'Inter, se chiedevate alla mia squadra, quella che ha vinto il Scudetto nel 91, su 21 giocatori, 22, chiedevate a che squadra tenete? C'erano tre che tenevano al Napoli, due al Juve, cinque al Milan, uno all'Inter, dieci al... Non lo chiamiamo democrazia. Ok, sarà anche bello. Però sapete, quando vedi i bambini piccoli, lo stadio intero con la maglia del Manchester United e quando senti i tifosi del Liverpool che cantano e cazzi ti vengono i brividi perché tu dici, questi sono orgogliosi, come gli alpini che ho visto a Pordenone e quell'unità te darà solo un senso di appartenenza. Allora, questo bisogna costruirlo. Lo costruisci anche attraverso la memoria di quello che è stato. In questo caso il filmato, la ripresa, è imbattibile. Se la sai archiviare, se la sai gestire. Ecco perché nel corso noi cerchiamo di formare, seppur in maniera semplice, i prerequisiti di base non solo per avere un filmato che poi se no diventa veramente una cosa che occupa memoria e basta, ma quel filmato deve subito avere un utilizzo immediato, una rielaborazione immediata e deve entrare a far parte del modus operandi dell'equip. Io non so se qui abbiamo i filmati per i genitori, ce li abbiamo. Guardate, a Natale noi ogni tanto mandiamo i filmati. E quindi facciamo delle riunioni, spieghiamo gli obiettivi e a un certo punto i genitori si vedono arrivare a casa un filmato di questo tipo. Sono brevissime. Natale, Natale è bello. E vi garantisco che quando a Natale, al posto dei soliti panettone eccetera, che mi sento adesso, poi me lo dirà la dottoressa, ma non fa neanche tanto bene alla salute. Se tu a un genitore, a una mamma, a un papà, consegni un cd con su il loro piccolo scricciolo che magari in tre minuti, non l'ha corazzata po' tionchini, gli fai vedere i progressi che ha fatto da quando cadeva per terra a dopo che magari riesce a fare una cosa, ma secondo voi quello lì lo guarda anche il nonno, anche chi non gliene frega niente del calcio lo guarda, che ci sono le cose che amano. Eppure nessuno lo fa. Gli dai il panettone. Magari un posto antio. Cioè, allora, è una questione culturale. Dobbiamo capire che, in questo caso, il filmato diventa devastante. Perché? Perché stabilisce un rapporto affettivo. Perché fa capire a quelle persone, soprattutto nei dilettanti deve avvenire questo, fa capire il lavoro che stanno facendo questi allenatori che magari tu, in buona fede, critichi semplicemente perché non l'hanno fatto giocarlo, non l'hanno tolto, per delle stupidate. Allora, il problema non è lui. Il problema siamo noi che dobbiamo far capire quello che stiamo facendo. E il mezzo audiovisivo è straordinario per questo. Perché non c'è bisogno di dirlo personalmente. Lo metti. Quindi lui può gestinarlo, può guardare. Capite? Se invece glielo dici, magari davanti agli altri dà fastidio. Invece è molto discreto. basta una mail, basta? Tu glielo invii. E lui ha la libertà, la libera scelta di poterlo vedere. E chiedetemi se glielo mandi con una bella lettera di augurice. Lui lo guarda. Prima o poi lo guarda. Anche il più scorbutico, capito? Quello più arrabbiato, poi manca un'occhiata. E nel filmato... Sì, le musichette possono essere anche opinabili, però è vero. Abbiamo grandi discussioni sulle musichette. Questo l'abbiamo fatto, guardate. E io ero vestito da Babbo Natale quando facevano vedere queste cose. No, no, quella non fanno vedere, ti prego, se no mi ricattano. Allora, vedete? Abbiamo detto, i vostri bambini sono diventati velocissimi. Mi hanno fatto vedere questo. Secondo voi hanno sorriso noi genitori. Vedete? Non c'è solo il filmato che lo portano. Non voglio sdramatizzare, voglio far capire che fino a quando noi diamo troppa importanza a una cosa, la enfatizziamo, non va bene. Dobbiamo usarla come fanno veramente quelli che giocano veramente a calcio. I più grandi giocatori al mondo sono i brasiliani. Non a caso i brasiliani, dopo un gol, ballano la samba. E quando vengono in Italia, dicono che hanno la saudade. Perché loro sono abituati a giocare e a divertire sulla spiaggia, a ballare. Ugege, ugege, calcio l'egria, calcio fantasia. Loro sono così. Con un gioco grandemente, proprio eccettivo, senza le tavolette. Loro giocano in spiaggia, a piedi nudi. Sono i più forti al mondo. Non ce n'è. Non ce n'è. Non ci sono metodi, non ci sono... Non ce n'è. Allora, la dose principale è il sorriso. Avete visto come un filmato ti può far sorridere. È chiaro che, poi, quello è uno strumento. Sarà poi a chi utilizza quello strumento, sarà a chi utilizza quello strumento trovare la modalità per individuare, parlavamo prima, i parametri e le strategie per poter raggiungere l'obiettivo. La scuola calcio, la scuola Brescia, ha questi obiettivi. Per noi è importante anche il rapporto che stabiliamo con le famiglie. Per noi è importante il rapporto che stabiliamo fra gli allenatori. Per noi è importante il rapporto che stabiliamo con i giocatori importanti e i testimonial del calcio di una volta. Per noi è importante dire i consigli del medico e trasferirli. Dire quali sono le scarpine migliori per il sintetico. Andare a prevenire delle patologie attraverso l'informazione. Se conosci, previene. Avere dei filmati sui quali dibattere all'interno della scuola. Far fare i filmati di una società, appunto, Brescia, che portiamo all'interno della scuola in maniera tale che conosciamo quella società senza andare in quella società. Ci sono tante le cose. E formare gli allenatori attraverso la visione. Abbiamo un allenatore che urla in panchina. Non gli diciamo di non urlare. Gli facciamo vedere come un suo quetaneo, un suo pari. Perché se gli fai vedere il professionista, diciamo, ma lui ha l'alibi e lui è professionista. Ma se io ti faccio, se tu alleni una squadra di piccolini dell'oratorio, ti faccio vedere un tuo pari, che è di un oratorio vicino al tuo, che quella cosa che tu non fai, la fa, se mi permettete, questo ha un potere incredibile. Vale più di mille parole. Quindi l'immagine, l'exemplum, è micidiale. Ecco perché dico sempre che il disegno vale di più della parola. È l'esperanto. La lingua internazionale è il disegno. Infatti gli orientali, le mamme orientali, quando sono stato a Hong Kong, non raccontano le storie di Capucetto Rosso o dei personaggi giapponesi a parole. Le disegnano. È fantastico. Loro tengono sempre questi bambini addosso, adesso non so in che modo, ma ce li hanno come attaccati. Vedi queste, in metropolitana, vedi queste donne che, con la modalità che conoscete bene, con la loro abilità, disegnano questi arabeschi, queste figure. Il bambino guarda. Per me è un training percettivo. Da noi al contrario. Disegni quando sei piccolo, quando sei grande. L'unica forma di scaravocchio che fai è quella nevrotica mentre stai telefonando su un foglietto. Non disegna più nessuno, tranne quelli che lo fanno per, io disegno, ma perché lo faccio per professione. E quindi questa capacità anche attraverso i video permane, perché comunque il video è immagine, è una cosa iconografica, non è legata alla parola. Ecco che allora molti allenatori usano. L'importante però è capire che il video stanca. E quindi? Short. Ecco perché Twitter è bello. Ecco perché gli SMS sono belli. Perché hai uno spazio limitato. Beh, la scuola Brescia è un po' alla Twitter, cioè non hai 150 caratteri, però hai poco tempo, poco spazio. E lì devi lavorare. Guarda, una considerazione che mi viene da fare è che ho fatto proprio male ad invitarti perché mi hai distrutto, infatti lo dicevo con Luca anche l'altra volta quando siamo venuti a vedere. Io non ho fatto che complimenti a voi. Mi hai distrutto tutte le mie certezze e comunque insomma mi hai aperto 10.000 porte e quindi veramente sono contento. Mi è piaciuto proprio il fatto di come usare questi video. Ne hai tirato fuori veramente mille aspetti e mi verrebbe voglia adesso di stare qua con qualche allenatore che conosco e adesso dai da domani proviamo a fare questa cosa, dai che ci mettiamo. Comunque adesso chiederei anche a voi di qualche domanda su quello che abbiamo visto, su quello che ha detto il mister, qualsiasi curiosità. Io penso che sia una cosa da sfruttare, poter parlare, poter dialogare con chi in questo momento sta creando un metodo, si sta mettendo in relazione con chi si fa chilometri ogni settimana per incontrare le persone. Quindi veramente vi invito a interagire con Massimo, siete obbligati. anche in gabbatesa, c'è qualche cosa critica, cassa la gente un po' che attacca. Se non ne pesco io una a caso, che diventa ancora più. Io credo che Alberto comunque sia molto bravo. Non spostare il focus. Quando dico molto bravo intendo molto bravo, dire che sta già lavorando bene e sta già sulla buona strada. Adesso lui vuole un po' sviare. Pesco uno a caso. È impossibile che non avviate domande, dai. Curiosità da sottolineare. Guarda adesso, allora inizio io e prendo Matteo, perché lavoriamo insieme al Padova. E quindi... Padova è grande società, l'amico Giorgio, ma no. Allora no, lavoriamo insieme e non abbiamo la possibilità di poter usare lo strumento video. E quindi, non so, ti chiedo se ti è venuto in mente qualcosa guardando. Magari prossima settimana riprendiamo anche noi qualcosa. Non lo so, se ti è venuta la culina in bocca a guardare questa cosa. Vuoi il microfono? Bravo mister, bravo, bravo. Questa è una cosa fondamentale. Non so se hanno sentito tutti. È un peccato, perché forse non se lo so. Secondo me... Almeno se sentissero tutto il momento... Sì, no, dicevo che con Luca ne avevo già parlato a dicembre, quando abbiamo fatto un camp organizzato sempre da Alberto. Che sarebbe interessante riprendere i nostri ragazzi nelle situazioni, nelle partitine che vanno a fare, per poi fargli vedere dei brevi filmati e fargli individuare a loro soluzioni diverse da quelle che hanno attuato in quella situazione, in quella fattispecie, ospezione di gara, insomma, quello che viene ripreso. Credo che quello che hai detto conferma la qualità dello staff Scuola Paddle. E' vero, hai ragione. E' chiaro che questa fase che tu dici, in pedagogia attiva, si chiama role playing. E' quando tu fai fare un'inversione del ruolo, quindi hai la possibilità di lavorare, non so, cooperative learning, significa impariamo insieme, dobbiamo fare una cosa, probleming and solving, quando gli poni un problema, il modeling che dicevamo prima è per imitazione, quindi hai diverse possibilità. Questa che tu dici è una delle più interessanti, perché in quel momento lo spazio di libertà è proprio nel ragazzo. Se tu sei bravo a lasciargli la possibilità di dire la sua, riesci a capire. Prima di tutto c'è questa imprevedibilità e lui ti può sorprendere, perché può risolvere il problema meglio di quanto tu pensassi. Ti può stupire, i ragazzi, i genitori, i ragazzi, magari li vedi, sei abituato a delle performance, poi a un certo punto cominciano a esprimere un concetto, a dire una cosa e il papà guarda la mano, ma gli hai detto tu no, gli hai detto tu no, magari non è mai uscito di casa, e uno dice, che cacchio ha fatto, dove ha tirato fuori questa cosa? Questo è tipico dell'uomo, gli animali non riescono a fare questo. Quindi è una forma di intelligenza e l'intelligenza è una cosa che va coltivata, educata, perciò devi creare gli spazi. Ma poi sarebbe stimolante anche per il mister, e non ci vuole tanto, credimi, perché questa cosa qui è più una questione di volontà, non c'è neanche bisogno che intervenga la società a certe volte. E' chiaro, se intervenga la società non cambia quello che fa il singolo, ma cambia il fatto che il progetto è co-costruito, mi spiego, è fatto da tutti, è un po' come in una famiglia, se ognuno fa quello che vuole lui e ognuno dà un piccolo obolo per pagare le spese, certo si va avanti, ma è altra cosa che pianificare le spese, i progetti, fare insieme le vacanze, tutti assieme, è una cosa diversa. E quindi quello che tu dici rientra nei nostri obiettivi, non è possibile farlo adesso perché abbiamo degli step, capisci? Come diceva giustamente prima Alberto, vi ho fatto vedere che ogni anno noi aggiungiamo qualcosa. Per fare questo devi fare una cosa che stiamo facendo negli ultimi mesi, cominciare a far interagire gli staff con lo staff collaboration, prima di tutto, e devi creare le condizioni anche logistiche per poter somministrare queste cose o al singolo giocatore o a gruppi di giocatori. Quindi anche questo rientra all'interno, se non vuoi farlo random, perché poi diventa una perdita di tempo, devi poi pianificare dove, come e quando queste cose vengono fatte. Ma questo rappresenta comunque un obiettivo alto secondo me, è molto formativo. Adesso passo a un altro mio... Ah, ecco, una domanda ce l'abbiamo. Ti sei salvato. You, coach. Io ricordo anche l'intervento che aveva fatto al Clinic, dove mi è rimasta impressa questa cosa. Lei diceva che le grandi squadre professionistiche all'estero hanno la possibilità di investire molti capitali già dai bambini. o ragazzini che siano. Allora mi chiedo, la differenza lì la fa il metodo o i soldi? Cioè, voglio dire, in queste grandi squadre i metodi sono diversi, sono migliori, la scuola Brescia nel senso è inferiore, oppure è migliore e se ci fossero anche i capitali i risultati sarebbero ancora migliori? Allora, la differenza non la fa né il metodo né i soldi. La differenza la fa le persone. Sono le persone che fanno le cose. I risultati migliori che ho visto io da quando mi sono spostato, io ho fatto per tanti anni professionista, e quindi ho vissuto per tanti anni in maniera agon. Agon vuol dire che l'agonismo ti implica a dover raggiungere un obiettivo, non dico vincere, ma quando sei in top team e hai top player, hai degli obiettivi. Quindi se fai il professionista serio, è inutile legarlo, hai delle pressioni importanti, anche a livello giovanile. E questo significa che tu sei costantemente sul pezzo. Questa cosa è vista dall'allenatore professionista come un dato positivo, pensa sempre al calcio. Per me questo è un difetto. Ma più che altro logora, perché sei sempre lì. Per raggiungere grandi obiettivi devi sapere staccare, devi spostare, no? Si chiama interruzione di schema in psicologia comportamentale. Quando tu, a un certo punto, pensi a qualcos'altro. È come se tu scaricassi. Nella teoria dell'allenamento è importante il recupero, il recupero è fondamentale. Un buon preparatore lo giudichi non dal lavoro, ma dai tempi di recupero, ricordati sempre. Allora che cosa succede? Che i risultati migliori, quando ho smesso di fare professionista, ho cominciato a interagire con le realtà del territorio. Ho scoperto che la qualità è vera. è nei dilettanti, non nei professionisti. Perché secondo me è il miracolo. Lo fanno in un oratorio, lo fanno in una società dove c'è gente che porta i bambini, tira le linee, trova il modo di arrivare a fare il campionato, trova i bambini. Cioè c'è una fantasia, una creatività e una capacità di organizzazione che è incredibile. Vincere poi, attenzione, vincere è un'altra cosa. Se tu hai la moto, acceleri. Se hai la bici, pedali. Se sei ai piedi, cammini. Ricordalo sempre. Paragonare due realtà in maniera corretta significa fare un bilancio complessivo, che non è solo la classifica. Vuol dire farlo bene, bene, vuol dire vaccino d'utenza, vuol dire budget, vuol dire, hai capito? Se non fai questo, rischi di andare a Barcellona, tornare e voler fare quello che hai visto a Barcellona nella realtà d'oratorio. Fai più danni della grandine. È quello che dicevo prima, non per fare il fenomeno, perché lo credo veramente, perché io parto sempre dal sacro rispetto delle istituzioni, quindi per me la federazione è una cosa importante. E delle persone. Qui nessuno mette in discussione chi lavora in federazione, perché sono tutti professionisti di altissimo livello, probabilmente i migliori. Io sto dicendo che per ottenere i risultati, quando parlo di metodo, non intendo che il metodo ti fa vincere o perdere, neanche i soldi, credimi. Infatti in Italia abbiamo visto che ci sono dei club che hanno speso tantissimi soldi, non hanno ottenuto niente. Il Borussia ha speso 80 milioni di euro e è andato a fare la finale di Coppa e Campioni due anni fa. O no? Mi sembra. Contro i 500 milioni o 600 milioni del Real Madrid, piuttosto che i 3-4 cent. Cioè, una cifra che dal punto di vista del budget, del planning, nettamente inferiore. Perché c'erano dei valori. L'atletico adesso sta arrivando perché ci sono dei valori che sono molto legati alle cose che dicevo prima. Quindi vuol dire che tu costruisci un progetto attraverso la condivisione e la scelta delle persone. Quindi la Scuola Brescia non è migliore o peggiore. Il nostro metodo non è migliore o peggiore. È nostro però. È nostro. Non so come dire. Avrà tutti i difetti, ma è nostro. Lo stiamo gestendo noi. È un metodo italiano e viene rielaborato dai ragazzi in maniera libera. Non c'è un ragazzo della Scuola Brescia che può dire che io dica a loro quello che devono fare. Io mi pongo il problema di porre le domande giuste. Le risposte le danno loro. Primo perché sono più bravi di me e sono più giovani. E in secondo luogo perché così ci divertiamo. Se no parlo uno solo hai capito. Quindi mi raccomando non dire così perché se dici così vuol dire che parti già dal presupposto che per ottenere risultati ci vogliono i soldi o il metodo. basti tu e i tuoi compagni con i quali hai fatto YouCoach e con i quali stai portando avanti un progetto. E se siete qua vestiti tutti e quattro uguali e mi avete fatto vedere un logo così bello è perché siete organizzati e ci credete. Fino a quando siete mossi da quello voi farete delle cose belle. Nel momento stesso in cui vi porrete cominciate a dire eh ma quella cosa non riusciamo a farla perché non abbiamo i soldi. è finita. Perché dove non ci sono i soldi ci sono le idee. Nel marketing lo chiamano gueriglia marketing. Chi ha soldi ha idea. E se due persone si incontrano e si scambiano 100 euro torna a casa ancora con 100 euro. Se ti scambi un'idea tu torni a casa con due idee. Punto. Quindi l'idea è più forte del soldo. Non è tutto ma è più forte. Il Veneto è un luogo dove ci sono tanti imprenditori. tanti. Tanti. E per fare una piccola impresa piccola magari medie ma vuol dire che sai organizzarti no? Impresa. Cioè tu parti e fai qualcosa. Progetto significa gettare in avanti delle idee. Devi essere progettuale. Il Padova perché mi piace perché il mio amico Giorgio Mollor è una persona seria che sa lavorare. Oggi io ho parlato con Marchesini. Marchesini è una persona seria Maurizio. Veneto e Luca Gotti serio. Maurizio Viscidi serio. Potrei andare avanti. Potrei andare avanti. Quindi il Veneto è una fucina di giovani allenatori di allenatori seri. addirittura anche arbitri. Cioè se voi guardate bene sono tantissimi e non è così in tutte le regioni con certe caratteristiche se succede qualcosa di nuovo 90 su 100 parte dal Veneto ma 90 su 100 ecco perché dico che è dal territorio e dai dilettanti che cambierà il calcio è da lì perché lì ci sono le persone che di lavoro fanno qualcosa altro che hanno competenze elevate e bisogna capire che adesso la spending review che prima o poi spero colpisca interamente il calcio quello degli adulti riequilibri le come dire le energie e le risorse il problema poi però è che non è questione di risorse perché se tu non sei capace a fare una cosa se ci sono le risorse i fondi europei facciamo così dai per fare un esempio a caso e poi non hai i requisiti che il bando del fondo europeo dice per poter darti i soldi tu i soldi non li prendi e sai che questo è il problema dell'Italia in questo momento in tutti i settori ecco perché ho detto che l'aggiornamento della scuola è fondamentale e l'uso delle tecnologie è al centro è al centro il problema della lingua è l'uso delle tecnologie delle nuove tecnologie quindi quelle esperienze che io ho visto oggi fatte da fuori area dove chiaramente il taglio è molto più professionale per cui c'erano dei parametri anche metrici angolari e quant'altro delle riprese un layout prefissato beh è molto importante mi è capitato di parlare anche con dei laureanti o laureati adesso delle persone che hanno svolto già delle ricerche magari in ambito motorio piuttosto che coordinativo beh quella è la strada senza enfatizzare senza dire io sono più bravo di te è stupido questo è stupido quindi noi non è che stiamo facendo vedere queste cose per dire che siamo i migliori o gli altri sono stupidi ma non ci dà mezzo ma per contribuire a un confronto a uno stimolo a un'interazione la cosa che a me piace molto è che poi i ragazzi giovani si scambiano le mail e stabiliscono rapporti tra di loro così si cresce io cresco se il mio sogno è quello di poter fare dei progetti di carattere con società competitor perché no con l'Atalanta perché no con il Milan con l'Inter magari se cambiamo la mentalità piuttosto che rubare i bambini a vicenda rubarsi i bambini magari se cominciamo a prendere i migliori allenatori e trovare dei momenti al di là delle partite dei campionati che è bim banger campanile e quant'altro ma se in quei momenti magari stabiliamo dei progetti che hanno un valore generale magari sull'uso della tecnologia fra i migliori delle società professionistiche basterebbe questo ecco io spero che un giorno la federazione diventi promotore di queste cose divenga promotore di queste cose e faccia in modo perché solo la federazione può fare questo un ente superiore di creare i luoghi dove questo avviene ecco credo che questo sia un maggioramento molto più valido che un filmato mandato così a Personam dove uno lo guarda da solo cioè il filmato è importante se esiste interazione quei filmati vi ho detto diventano importanti perché poi lunedì c'è Volpi Posanzini ragazzi che parlano perché prima durante e dopo quel filmato avvengono degli incontri degli scontri delle discussioni c'è stata una serata dove Volpi e Posanzini non erano d'accordo non so se mi spiego ma così come mi è capitato all'Inter quando magari sulla presa di posizione su una sovrapposizione Maresi diceva una cosa ma l'icona ne diceva un'altra e c'era la discussione per dirvi che poi non è che è sempre obbligatorio avere il filmato può essere anche un momento di campo e ne avvengono tanti ecco quelli sono i momenti secondo me decisivi ecco se quelli al posto di essere condivisi solo da due allenatori che sono lì vengono filmati qual è il vantaggio che poi puoi farli e condividerli con più gente questo solo il filmato te lo può consentire ecco questo è un aspetto fondamentale perché ha a che vedere con l'aspetto della conoscenza certo che richiede una cosa richiede generosità e aperture io sono abituato a scrivere e a condividere c'è gente che no? questo è mio vai no? come se ci fossero dei segreti ma ragazzi il calcio è semplice non è che lo inventiamo non è che uno inventa le cose è molto semplice e quindi quello che è importante non è che bisogna fare gol è vedere come poi quel gol può essere fatto la finta che faceva Bruno Conti nel 1982 scusate la Marcord i giovani non se lo ricordano andate a vedere quelli un po' più vecchi forse sì era un giocatore un'ala bassottino faceva una finta una sola le sapeva fare una sola ai mondiali dell'82 adesso non so se con o senza mezzanalisi ma la conoscevano tutti oh non c'è uno che l'ha fermato perché? perché tutti la conoscevano ma lui lavorava sui tempi e quindi ti fregava sempre sul tempo ecco perché dico quindi non c'è bisogno di fare tante cose l'importante è però diventare eccellente no? un buon giocatore no? come indice di qualità non deve saper far tutto lo scouting secondo me a un certo punto quando devi scegliere qualcuno se è selettivo a un certo livello non sicuramente in prima battuta ma in realtà dove c'è il sociale è importante tu non guardi la sufficienza tu vuoi che ci sia un'eccellenza deve essere eccellente in una cosa eccellente ma ad altissimo livello ah non sa far fa niente ma quella cosa la fa al massimo livello almeno questa è la mia opinione piuttosto che prendere uno che è mediocre in tutto perché? perché poi il livello di sufficienza lo puoi raggiungere ma quell'eccellenza è quella che distingue se voi guardate tutti i grandi giocatori un tempo c'era uno che chiamava Mariolino Corso e diceva che usava solo il sinistro ecco capito o Gigi Riva non lo conoscete era un body tuono usava solo il sinistro ecco capito però lo usava in una maniera tale da essere eccezionale allora quelle slow motion che vi facevo vedere danno la possibilità di vedere nel particolare in un tempo che tu vuoi quel bambino e quindi l'allenatore che riceve perché poi noi elaboriamo anche queste cose le diamo agli allenatori l'allenatore che riceve 15 minuti un abstract della partita piuttosto che dell'allenamento perché l'allenatore chiaramente non va a vedere nel pallone fa allenamento poi però il materiale del pallone che è filmato viene dato all'allenatore e l'allenatore quando vuole può guardare quel giocatore di cui ha un'idea lo può guardare in analitico cioè guardiamo anche come usa il sinistro e voi dite io lo allena tutti i giorni ho capito ma un allenatore che deve gestire 20 giocatori adesso non è mica mandrache non è che può fare il globale nello stesso tempo vedere anche come tutti toccano la parte dai non vediamo fuoco non può non può fare in quel modo attraverso una gestione giusta e pianificata dei video tu puoi dargli quell'informazione attenzione non 2000 cose perché se no lo sovraccarichi e quindi anche la tua idea è bellissima però attenzione gestire bene i tempi perché se gli fai vedere la corazzata potranno anche chi ha fatto il giocatore lo sa e a proposito di carico cognitivo gli allenatori professionisti almeno un po' di tempo fa nella programmazione del lavoro quando tu chiedevi ma prima della partita prima della partita scarico il solito era così il martedì carico poi scarico e gli chiedevi e quando scarichi cosa fai? gli faccio vedere i video e parliamo della tattica che cazzo cioè vuol dire che hai talmente come unico carico quello metabolico da non considerare che la visione di un filmato stanca molto di più che una partita libera ecco perché dico che il salto che bisogna fare è culturale perché vuol dire che tu non consente tu per te guarda allora mi dovete spiegare perché uno davanti ha un computer che lavora e da puntista motorio fa zero perché sta fermo arriva a casa la sera che è distrutto spiegatemi che tipo di carico è chiamato per me è cognitivo è distrutto e non si è mosso è stato seduto ecco anche nel gergo calcistico il gergo sottintende che cosa non dico ignoranza ma quantomeno non considerazione di questo carico mi piacerebbe che i preparatori che i giovani che fanno scienze motorie quantifichino di fatti nella scuola bescia c'è una slide di un gruppo così facciamo adesso il carico cognitivo l'evento che abbiamo fatto l'11 maggio proprio recente aveva come obiettivo nella presentazione di tutti i gruppi che hanno presentato il lavoro l'obiettivo adesso lui si si lo recupera aveva l'obiettivo di andare a quantificare il carico cognitivo delle esercitazioni che andavano a fare attraverso la modalità che noi abbiamo proposto attraverso il metodo e noi riusciamo a farlo perché abbiamo dei parametri consideriamo dei parametri che hanno a che vedere col carico cognitivo e quindi quello non è il modo l'algoritmo perfetto per calcolarlo ma è un modo per spostare il focus su quel problema è un pretesto a noi non interessa la risposta esatta a noi interessa indurre comportamenti che tengono in considerazione alcuni parametri che per noi sono importanti per me è importante che un allenatore saper gestire lo spazio ecco perché parlo di spazio finito definito infinito non per fare Escher o Gödel o teorico ma perché devi sapere devi sapere gestire i cinesini devi sapere che se tu crei uno spazio quello spazio induce comportamenti tecnico-tattici e coordinativi vedete vedete questi sono gruppi verticali fatti da ragazzi che di società di lettanti alcuni anche dall'oratorio non sono professionisti però da soli si sono fatti i filmati hanno gestito i giocatori hanno interagito società allenatori di realtà diversa c'è le realtà ci sono per favore guardate questi sono poi c'è la metafora ci sono i racconti eccetera vedete e questi sono di società c'è chi è del Real Borgo Sottolo c'è chi è della Drense c'è chi è del Castrezzato c'è chi è del Bieno della Valle dei Laghi della Bassa insieme quindi e tutti si conoscono e lui dice cacchio come fai ad andare in valle attraverso il filmato è la valle che viene a te è molto semplice per cui quando il Presidente un po' come Marco Polo con l'imperatore Kublai mi chiedeva ma come fai a trovare le risorse per andare in tutti i luoghi non capiva che io non avevo intenzione di andare nei luoghi volevo attraverso la tecnologia e attraverso un luogo tranquillo qui avete uno spazio bellissimo noi abbiamo non bello così ma abbiamo uno spazio simile seduto tu puoi vedere un allenamento del Bienno seduto puoi vedere un allenamento della squadra del taglio di pote figlio del mio amico e lo possiamo vedere qua mentre li tirano in porta e parano dopo vediamo un allenamento del Padua dopo di che vediamo l'intervista a Molon dopo di che c'è Alberto con Luca che fa vedere una ripresa è un ragazzo che ti spiega i parametri con i quali la velocità si può fare perché non si può fare non ci vogliono i miliardi non ci vuole il Bayer non ci vuole il Barcellona ci vuole le persone ci sono già qua non siamo noi e noi stiamo facendo quella roba qua siamo vicini al Veneto quindi un po' abbiamo preso anche noi e noi stiamo cercando di attivarci nella speranza sempre che centralmente ci siano delle indicazioni un attimino più precise siamo un po' critici noi rispetto a questo ma un attimino più precise vuol dire partecipate capite? non che ci mandano dei filmati o delle cose che già noi possiamo trovare in rete giusto? io non dico voi penso che non avete problemi a trovare dei filmati ne scaricate 20.000 20.000 giga in 3 secondi il problema è come collegare quelle cose altre domande? sfrutterei il momento a parte a proposito di realtà presente nel territorio è presente stasera anche un'altra realtà importante del nostro territorio che è Diego con Idea Calcio che non so se forse anche lui l'hai sentito nominare che come U-Coach anche lui in rete fa insomma quindi anche lui partner della serata è stata una serata meravigliosa e io non avevo mai provato l'esperienza di presentare un personaggio così importante così ma anche pieno di risorse di cultura di sapere e soprattutto poi rendere tutte queste cose pratiche per me è stata veramente una serata bellissima e sono convinto che anche per quelli che sono stati presenti ho visto i vostri occhi ho visto ho visto la loro postura che era veramente proiettata verso l'ascolto io ti ringrazio non credo io credo che per poter andare avanti bisogna a un certo punto superare e mettere da parte quelli come il sottoscritto cioè bisogna ascoltarli ma il consiglio che vi do è quello di provare a fare certe cose e andare oltre che è quello che stanno facendo i ragazzi quindi la mia fortuna è il fatto che c'è della gente come voi che mi invita e mi dà la possibilità ancora di parlare perché per me cronologicamente ho superato cioè io quando superi 50 secondo me dovresti un po' lasciare il campo il campo l'ho lasciato mi piace ancora parlare interagire penso comunque che siano i giovani che devono poi fare le cose cioè che con i giovani devono starci i giovani e chi è meno giovane deve avere il piacere di far crescere i giovani i problemi sono quando uno non più giovane non molla non so come dire non molla l'osso è un problema è un problema incredibile perché fai perdere il tempo al giovane è un po' così in Italia e guardate che in Europa non è così è un po' una concezione nella famiglia i figli all'estero a 16 17 18 anni li buttano fuori di casa li buttano fuori di casa in Italia il mio bambino a 38 anni cazzo cioè il mio bambino poverino la pappina cioè non li mandi più via cioè nel senso un po' loro non vanno poi al di là della crisi ma ecco questa cosa qui accade poi a tutti i livelli per cui comunque sia tu centralizzi sempre e non c'è la possibilità ecco perché dico che Alberto tu sei bravo e queste attività che nascono sono fondamentali perché per me danno un modello sul territorio formano un modello alternativo a quello dei club professionistici compreso quello del Brescia quindi la risposta deve essere una risposta decentrata deve essere una risposta autonoma deve essere una risposta che non è calata dall'alto gli esempi compreso il nostro devono servire solo come riferimenti per poi essere distrutti rielaborati destrutturati e ognuno poi trova la sua strada non deve essere sua però perché se invece è una cosa bellissima ma la copi è come voi se voi prendeste queste cose le fate uguali non fatelo ma non fatelo è diseducativo cioè non assolutamente uno deve guardare capire il principio e poi dire beh noi noi siamo simili però qui è diverso allora cambio faccio è come rimontare una cosa come far sentire il nostro grazie a Massimo grazie e Matteo un arrivederci le nostre due serate sono terminate c'è qualcuno che l'ha vissuta entrambe io per primo sono veramente contentissimo di questa esperienza un saluto particolare alle vostre società ai vostri collaboratori e buonanotte a tutti grazie 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 grazie